Diego Monaldi, signor Diego Monaldi, MVP dell'incontro, oggi 23 anni, non potevi festeggiare meglio con questa partita, la salvezza in serie A2 della tua squadra? Ma sinceramente non ci credo, nel senso che è veramente un sogno, sono davvero contento perché questi sono realmente tutti i sacrifici che abbiamo fatto durante tutto l'anno, durante tutta la settimana, durante tutte le settimane che abbiamo passato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra davvero con le palle, passatemi il termine, perché questa squadra merita davvero solo di prendere gli applausi, quindi è bellissimo davvero. Diego, tre quarti non all'altezza, soprattutto di quello che avete dato al pallaticale San Gioleombroni, cosa è successo nel quarto quarto? Completamente trasformati, siete andati a vincere una partita impossibile? Sì, sicuramente all'inizio abbiamo incontrato un po' di difficoltà, anche perché anche per loro era uno scontro molto importante, loro hanno fatto un'ottima partita e l'hanno dimostrato fino alla fine. Dopo diciamo che abbiamo stretto i denti, abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato carattere, come ripeto, abbiamo portato a casa la partita, bravi davvero tutti, perché è stata una partita bellissima. E' sicuramente presto per dirlo, deve finire ancora il campionato, i tifosi però ci credono in te, ti hanno sempre amato dal primo momento, non c'è il due senza tre, rimarrai a Chieti? Vedremo, sinceramente io non posso negare che mi sono trovato benissimo e anzi, sinceramente con il cuore devo ringraziare tutti, a partire da tifosi, dallo staff, soprattutto dal presidente, che è stato davvero un signor presidente, ad arrivare fino allo staff, al coach e tutte queste persone non hanno mollato mai, davvero hanno creduto sempre in noi e si meritano davvero tanto rispetto, quindi per me questa piazza, indipendentemente dal mio futuro, mi rimarrà sempre nel cuore, sempre.